Non un'impugnazione, ma ancora eccezioni mosse dai ministeri alla regione sulle leggi approvate in fatto di sanità. La richiesta è arrivata nei giorni scorsi all'assessorato alla salute e al Consiglio regionale. Riguarda una serie di screening non inclusi nei LEA e la legge che riorganizza i laboratori privati. Anzitutto, come detto, gli screening, quello al colon, fu impugnato dal governo nello scorso ottobre. Così non fu per la diagnosi precoce di 59 malattie, invece. Anzitutto, gli screening, quello al colon, fu impugnato dal governo nello scorso ottobre, mentre ora un parziale stop arriva per il cancro al seno e per le malattie visive. Sono stati richiesti, infatti, correttivi sul cancro al seno perché, contrariamente a quanto previsto da ILEA, è steso alle donne dai 45 ai 75 anni. Richieste arrivate anche per quello per il controllo visivo neonatale, mirato a diagnosticare precocemente malattie che portano alla cecità. La correzione richiesta dal ministero in questo caso consiste nello specificare che si tratta di prevenzione per la cataratta e nulla più. E così sarà corretta, sperando basti, e che non passi sotto la scura del Consiglio dei Ministri, ultimo step dopo le richieste dei ministeri per impugnare o meno una legge regionale dinnanzi alla Corte Costituzionale. Quanto alla combattuta, discussa, ma poi approvata, legge di riordino dei laboratori privati, le eccezioni del ministero sono volte a far riallineare la Puglia alle direttive nazionali, ovvero prevedere grossi hub e poi una rete di piccoli laboratori che eseguono esclusivamente prelievi. Grazie a tutti.